Se addestrare un cavallo significa insegnargli ad ubbidire in modo preciso ed immediato ad ordini impercettibili, il cavaliere dovrà essere in grado di impartire gli ordini in maniera corretta. Per fare questo è necessario stare in sella con un giusto e solido assetto. Vi sono molti esercizi utili per migliorare la posizione e la solidità dell'assetto. Al passo stare sollevati scaricando tutto il peso sulle staffe, impugnare entrambe le redini in una mano e portare il braccio libero dietro la schiena. Ruotare il braccio senza perdere l'equilibrio o la scioltezza del busto. Toccare la punta delle spalle del cavallo scioglie il busto del cavaliere e migliora il suo equilibrio. Sollevare le ginocchia mantenendo la corretta posizione del busto rafforza i muscoli addominali e migliora l'equilibrio in sella. Chinare il busto indietro fino a toccare con la nuca la groppa del cavallo mantenendo la giusta posizione delle gambe rinforza l'inforcatura. Prendere la gamba alla caviglia mantenendo l'altra nella posizione corretta abitua il cavaliere all'indipendenza degli aiuti. Prendere la gamba alla cavaliere Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve rimanere fluida e regolare così come la posizione dell'incollatura e della testa deve restare nella posizione corretta mantenendo la giusta direzione nell'eseguire le figure. Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve restare nella posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve restare nella posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve restare nella posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve restare nella posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti senza staffe facendo scendere bene il ginocchio e tenendo le gambe ferme. Per eseguire gli esercizi più difficili è bene montare un cavallo sereno e tranquillo. Gli esercizi possono essere eseguiti al trotto e la cadenza deve restare nella posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti alla posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti alla posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti alla posizione corretta del cavaliere all'inforcatura. Gli esercizi possono essere eseguiti alla posizione corretta del cavaliere all'inforcatura.